Giuseppe Marozzi, amministratore delegato della G-Plast Group, ecco questo prima G-Plast Day, come nasce e perché? Il G-Plast Day noi oggi abbiamo fatto questa iniziativa per festeggiare i nostri collaboratori. È una festa per loro, è una festa dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, perché insieme abbiamo fatto un percorso, un percorso di crescita e vogliamo raccontarlo alla cittadinanza, alle autorità e quindi sono state invitate diverse figure, istituzionali, che serviranno ad aiutarci a festeggiare i nostri dipendenti. La direzione commerciale condotta da mio figlio sta portando avanti una serie di iniziative verso tutto il mondo europeo che abbiamo già in parte conquistato ma dove dobbiamo ancora crescere, ma ci stiamo allargando anche verso altre realtà tipo l'America Latina, adesso parlava lei del Bogotà, è una fiera che faremo tra qualche giorno, tra qualche mese e sarà importante ma saranno importanti anche tutte le altre iniziative nel bacino del Mediterraneo dove siamo molto presenti, in Asia. L'America Latina rappresenterà però il nostro punto di riferimento momentaneo da aggredire. 170 dipendenti, un'azienda davvero importante in un momento di crisi, è bello sapere che c'è. Beh sì, questo ci dà molta forza, ci dà molto entusiasmo e molta grinta. Siamo riusciti a crescere nonostante la crisi, abbiamo avuto una buona progettualità nel campo del servizio alle industrie del mobile perché noi lavoriamo con loro, noi lavoriamo con le industrie del mobile. Purtroppo questo è un settore che come tanti altri è in crisi, vuol dire che siamo stati doppiamente bravi in un momento in cui il nostro mercato di riferimento sta in crisi, siamo riusciti a crescere di un 10, 15, 20% l'anno e oggi i risultati sono veramente interessanti. Grazie. 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 Grazie.